Il contenuto dell'articolo, cos'è monodie e come perdere peso in 3 giorni di 5 kg dieta per 3 giorni dieta kefir dieta di grano saraceno dieta di mele dieta al cioccolato dieta a base di riso dieta cagliata pochissime persone sono completamente soddisfatti della figura. L'eccesso di peso è la principale causa di tormento, spesso le donne trovano in eccesso di kg, a volte sono solo 3 e a volte 10 o più kg. La maggior parte delle diete sono progettate per un lungo periodo, ma ci sono modi rapidi per metterti in ordine, esprimere la dieta. Mono per 3 giorni meno 5 kg. Invitato alle vacanze e l'abito è un po' affollato o devi mostrare la tua bellezza in una riunione di laurea? Questo è il momento migliore per utilizzare una dieta mono. Cos'è monodie? L'essenza della dieta è contenuta nel suo nome, mono in latino 1. Per colazione, pranzo, cena, viene consumato un solo prodotto. La dieta mono è un modo efficace ma aggressivo per perdere un paio di kg. Il corpo sta vivendo un grande stress in questo momento, quindi la dieta espressa per 3 giorni o una settimana viene utilizzata non più di un paio di volte ogni 6 mesi, quando non c'è tempo per mettersi in ordine. Un punto importante è l'assenza di problemi di salute al momento della restrizione negli alimenti. I nutrizionisti raccomandano di usare qualsiasi dieta espressa con cautela, ma non negano che siano molto efficaci. Ecco alcuni suggerimenti quando si utilizza qualsiasi dieta mono. Bevi molti liquidi, fino a 2 litri al giorno. Faranno acqua pulita o tè verde. Non dimenticare di preparare e abbandonare la dieta mono. Astenersi da cibi troppo grassi e piccanti, dolci e soda. Osserva il numero di calorie. In alcune diete mono uso vengono utilizzati cibi ad alto contenuto calorico. Non superare le porzioni. Ascolta il corpo. Con sentimenti negativi, la dieta deve essere interrotta. Come perdere peso in 3 giorni di 5 kg. Molti credono che perdere peso in 3 giorni a casa non sia realistico, un periodo troppo breve per ricostruire il corpo. Esistono diversi modi per dire addio ai chili non necessari. Giorni di digiuno. L'uso di cibi ipocalorici. Digiuno terapeutico. Mono. Dieta. Per saperne di più 8 rimedi casalinghi per schiarire i capelli. Le ricette più efficaci. Qualsiasi dieta blezza ha limiti significativi. Due punti portano danni nelle malattie del tratto gastrointestinale e del pancreas, nelle malattie vascolari e nel sistema cardiaco. Una forte restrizione del cibo è controindicata durante la gravidanza e l'esacerbazione delle malattie croniche. Un'efficace monodieta per 3 giorni meno 5 kg è un'impresa di pulizie che dovrebbe essere trattata con cautela. Dieta per 3 giorni. Perché i metodi espressi funzionano e qual è il meccanismo della dieta per 3 giorni meno 5 kg? Per un periodo di tempo così breve, il peso viene perso a causa del rilascio di liquidi dal corpo. La dieta con diete monoveloci contiene prodotti che aiutano a rimuovere l'acqua in eccesso dal massimo in breve tempo. Verdure, frutta, cereali, latticini. Molti prodotti, tra cui alcol, sale, zucchero, grassi, fritti, affumicati, devono essere eliminati. Fortemente non rafforzare l'effetto della dieta con diuretici e lassativi. Questo può portare a un forte deterioramento del benessere. Dieta kefir. Kefir è un prodotto comune per la perdita di peso ed è idealmente usato come dieta meno 5 kg in 3 giorni. La dieta mono su kefir è facilmente tollerata e non provoca disagio. Le principali raccomandazioni sono le seguenti. Utilizzare una bevanda con un contenuto di grassi dell'1% o basso contenuto di grassi. Bevi molti liquidi, acqua naturale, tè verde. L'uso di kefir, non solo aiuta a perdere peso, ma rafforza anche il sistema immunitario, migliore il tratto digestivo, aiuta ad eliminare le tossine accumulate nel corpo. Questo è un drink soddisfacente. Lui, ricco di proteine e minerali, economicamente, non richiede ulteriore elaborazione. Dieta di grano saraceno. Il grano saraceno è un prodotto preferito degli abitanti della Russia e dell'Europa orientale. Una dieta di grano saraceno per 3 giorni contribuirà a ridurre il peso a 5 kg, con poco sforzo. I benefici della dieta del grano saraceno. Alto contenuto calorico. 100 grammi danno 335 keikel, saturi per l'intera giornata. Le proteine vegetali danno forza. Il grano contiene più di 10 utili oligoelementi, ferro, fosforo, iodio di potassio, zinco, magnesio, vitamine B e P. La dieta quotidiana durante questa monodieta è grano saraceno bollito senza burro e sale, acqua. Preparare il grano saraceno per la perdita di peso è semplice. Un bicchiere di cereali la sera viene versato con due bicchieri di acqua bollente, tenere fino al mattino e consumare. Per saperne di più shampoo micozzorale, istruzioni per l'uso, indicazioni, composizione, analoghi e prezzo dieta di mele nel nostro paese. Una mela è il frutto preferito e popolare. Calorie minime, micronutrienti massimi benefici. Una dieta di 3 giorni sulle mele ti farà tornare in forma in breve tempo. Una dieta approssimativa di monodieta è un chilo e mezzo di mele e una quantità illimitata di acqua al giorno. Con una forte sensazione di fame, è permesso un paio di cucchiai di miele. 3 giorni il periodo più ottimale. La dieta più lunga non è raccomandata. Non dimenticare le controindicazioni. Si tratta di malattie del tratto gastrointestinale, ulcera, gastrite, alta acidità, è meglio. Preferire un altro prodotto per la perdita di peso. L'acido di frutta presente nelle mele può irritare le pareti dello stomaco e aumentare la formazione di gas. Se si verificano sintomi spiacevoli, è meglio interrompere la dieta. Dieta al cioccolato. Stai pensando di unire l'utile al dilettevole? Prova una dieta al cioccolato e imparerai a perdere 5 kg in 3 giorni. Non dovresti sederti su una dieta così mono. Se ci sono problemi al fegato, durante la dieta, c'è un carico aggiuntivo su di esso. A giudicare dalle recensioni, la dieta al cioccolato per 3 giorni è super efficace. Durante questo periodo, si perdono fino a 7 kg. La dieta consisterà solo di cioccolato e caffè nero. I principi di base della dieta, 100 g di latte o cioccolato amaro possono essere consumati al giorno, lavati con caffè senza zucchero. Bevi acqua almeno un litro e mezzo al giorno e solo due ore dopo l'ingestione di cioccolato. Dieta banana un'altra dieta gustosa per 3 giorni meno 5 kg. La polpa della frutta contiene molto potassio e magnesio, che sono benefici per il cuore e aiutano a rimuovere liquidi dal corpo, quindi perdere peso di 5 kg in 3 giorni sulle banane è abbastanza realistico. Non dimenticare la serotonina, è anche nelle banane e migliora l'umore. Le sfumature e le opzioni di una dieta a base di banana, 4 banane al giorno e acqua illimitata senza gas, 8 frutti al giorno, ma ci saranno meno chili scaricati. I nutrizionisti raccomandano di preservare lo stomaco il giorno prima e il giorno dopo la dieta, non mangiare grassi, piccanti e fritti. Per saperne di più top 8 matite per sopracciglia impermeabili dieta a base di riso. Il riso è un prodotto con proprietà uniche, in particolare marrone non pelato. Qual è la dieta del riso utile per il corpo? Sostanze nocive dal corpo, normalizzazione dell'equilibrio acqua al calino. Il riso contiene minerali sani e molte vitamine. Perdere peso in 3 giorni con il riso è una perdita garantita da 3 a 5 kg senza danneggiare il corpo. Durante la dieta, utilizzare solo riso bollito, un bicchiere di cereali al giorno, e acqua naturale o tè verde. La dieta mono è dura, ma facile da trasportare, perché il riso si satura bene. Se necessario, è possibile estendere la dieta a 5 o 7 giorni, ma assumere anche preparati di potassio e magnesio. Dieta Cagliata La ricotta è un prodotto a base di latte fermentato, è una fonte di calcio e fosforo per il corpo, che rinforza denti, unghie e migliora la condizione dei capelli. Il prodotto lattiero caseario è utile per il tratto digestivo, non contiene molte calorie ed è facilmente assorbito dall'organismo. La monodieta di Cagliata è molto popolare, funziona per rimuovere liquidi e normalizzare la funzione intestinale. Come tutte le diete per 3 giorni meno 5 kg, da un carico decente sul corpo, non è consigliabile seguirlo più a lungo. Razione dietetica del formaggio Opzione 1 Solo ricotta e acqua Opzione 2 È consentito il succo di mela o il tè verde. Devi bere circa 2 litri di liquidi al giorno. Anche il contenuto di grassi del prodotto lattiero caseario svolge un ruolo importante. La ricotta a basso contenuto di grassi, 0%. È adatta a coloro che vogliono asciugarsi con esercizi di forza regolari. Regole Viene assunto solo circa un chilogrammo e suddiviso in 5-6 pasti. Per coloro che vogliono solo perdere peso, è meglio scegliere una massa di Cagliata del 5% di grassi, circa 500-600 grammi. È più soddisfacente e il grasso del latte ti aiuterà a trasferire facilmente la restrizione in carboidrati. A volte a cena si aggiungono frutta secca, albicocche secche, uvetta, ma un po' apostrofo. Attenzione! Le informazioni presentate nell'articolo sono solo indicative. I materiali dell'articolo non richiedono un trattamento indipendente. Solo un medico qualificato può fare una diagnosi e fornire raccomandazioni terapeutiche basate sulle caratteristiche individuali di un particolare paziente.